Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti-tappeto Afshar 218x160. Questi tappeti sono annodati a mano dagli abitanti dei villaggi della Persia meridionale, una volta popolazione nomade. I tappeti presentano spesso un motivo geometrico dalle tonalità rosse e blu. Gli Afshar sono considerati tra i migliori esempi dell'arte nomade della tessitura dei tappeti, con la loro bellezza primitiva ma maestosa. Lavorazione, annodato a mano, spessore circa 8 mm, pelo, lana, ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.